Buonasera, benvenuti, sono Auro Bernardi, sono un giornalista e fotografo di viaggio e sono qui perché c'è da presentare questa guida nuova a Lato Donna di Umbria Libri, ci sono tre donne qui accanto a me, l'autrice Ambra Antonelli, la editrice Isabella Gambini e un'amica di tutti noi autori di viaggio Valentina Vincenti e appunto siccome ci sono tre donne e tre donne importanti per questa occasione ho chiesto le quote azzurre perché almeno anche l'altra metà, come si dice, del cielo fosse rappresentate in qualche modo. Scherzo ovviamente ma diciamo sono qui proprio perché ho avuto il piacere enorme di conoscere Ambra l'anno scorso dopo tanti anni di frequentazione dell'Umbria, io non sono Umbro e potrei chiedere la cittadinanza onoraria perché insomma appena posso scappo qua. Comunque lascio subito la parola a Isabella Gambini che è l'editrice della guida e ci spiega un po' qual è la filosofia di questa collana e di questa guida. Salve a tutti, buonasera e ben intervenuti. Allora la collana si chiama la bussola del viandante e già il nome appunto ci evoca qualcosa, la bussola perché la bussola perché l'obiettivo della mia casa editrice è stata quella di creare guide turistiche e libri di letteratura di viaggio per orientare il viaggiatore alla conoscenza appunto del patrimonio storico, artistico, culturale, anio gastro economico e quant'altro in Umbria e in tutta Italia. Quindi l'obiettivo della guida è proprio quella di valorizzare la bellezza del nostro paese. La bussola del viandante ha preso origini appunto da un paesino dell'Umbria che si chiama Meglia che tutti conoscete e ora siamo arrivati alla sesta guida e questa di Perugia appunto è di Ambra, della bravissima Ambra appunto il sesto percorso che facciamo. È uno strumento che si sta rivelando molto efficace perché l'abbiamo proprio studiata per dare al viaggiatore uno strumento di viaggio divulgativo, quindi è ben scritta, approfondita, ma l'obiettivo non è la scientificità del testo quanto appunto contenuti di tipo divulgativo. Ecco, questo è l'aggettivo che mi sento di esprimere. D'altro canto una guida serve, diciamo, in qualche modo ho pensato che poteva essere utile per due ragioni, sia appunto al viandante, quindi al viaggiatore, ma anche ai ragazzi giovani che prendono contatto con la loro città, con il proprio territorio. Quindi il libro di viaggio lo pensiamo sempre come strumento per chi si muove, io l'ho pensato anche come strumento di conoscenza per chi vive in un territorio. Quindi per me il target appunto è duplice, è chi arriva e chi c'è. Quindi penso che abbiamo dato una struttura precisa alla guida, poi Ambra, che ci racconterà poi espressamente, più nel dettaglio, diciamo, come ci siamo mossi. La guida è in vendita in tutte le librerie d'Italia e è stato stretto da poco l'accordo con il Touring Club italiano, per cui Perugia anche avrà la massima divulgazione. Quindi sarà visibile non solo per chi arriva a Perugia, ma anche per tutti coloro che si troveranno a Milano, a Palermo, a Roma e vorranno in qualche modo venire a visitare questa meravigliosa città. Ecco, visto che abbiamo poco tempo, lascio subito la parola ad Auro. Grazie. Io la passo subito con un assist degno del miglior giocatore di calcio a Valentina Vincenti, che ci spiega chi è Ambra e che cosa è nella sostanza questo libro. Allora, io ringrazio Ambra innanzitutto per avermi chiesto di fare questa presentazione. Mi fa veramente tanto, tanto piacere perché ci conosciamo da tanti anni, anche se Ambra è ben più giovane di me, però ci siamo conosciute all'università perché abbiamo la stessa identica formazione. Noi abbiamo fatto lettere classico con l'indirizzo archeologico e siamo entrambe allieve del professor Mario Torelli, che mi fa piacere, approfitto di questa occasione per ricordarlo, d'accordo con Ambra, perché il 20 settembre è passato un anno dalla sua morte, ma questo grandissimo studioso a livello mondiale, che ha insegnato per tanti anni qui nella nostra città, è veramente stata una presenza fondamentale nella nostra formazione e non solo nella nostra, chiaramente, di intere generazioni di persone che hanno studiato archeologia e le materie classiche. Lui, ne parlavo con Ambra venendo qua, ci ha insegnato a vedere le cose e quello che lui ci ha insegnato è veramente un'eredità talmente grande che ci piaceva esprimere in questa sede la nostra gratitudine a lui e al suo ricordo. Poi volevo dire che il libro di Ambra è veramente un'opera meritoria, proprio perché abbiamo una formazione simile ed entrambe facciamo lo stesso lavoro, anche la guida turistica, ho potuto leggendolo apprezzare infinitamente il taglio che Ambra ha dato, perché la guida turistica non è un mestiere facile. Un tempo il Cicerone era quasi un tipo da macchietta, quasi un istrione, quando se ne incontrava uno si riconosceva anche per il suo modo di fare, però oggigiorno la guida turistica invece è un mestiere estremamente esigente. Bisogna innanzitutto avere una profonda preparazione storico-artistica, unita però a un grande senso pratico che spesso manca allo studioso puro e inoltre bisogna avere una grande empatia e una grande capacità di capire chi sia davanti, perché la varietà delle persone che vengono a visitare nella nostra regione è veramente straordinaria e bisogna sempre adattarsi alle esigenze di chi viene a visitare del visitatore e quindi richiede un grande sforzo, diciamo così, di psicologia. Quindi è un mestiere difficile, ma Ambra è riuscita in questo libro a fare uno strumento estremamente duttile che può servire sia al visitatore della prima ora che arriva a Perugia per la prima volta, sia anche alla guida turistica professionista, perché questo libretto, nonostante le sue modeste dimensioni, è un sunto di anni e anni di studio. Questo lo capisce con chiarezza chi ha fatto un po' lo stesso percorso. Io mentre leggevo questo libro ho capito quanto lavoro c'è dietro. Quello che sembra semplicemente un aiuto, un supporto per comprendere la città, in realtà è il frutto di grandissimo studio precedente. E questo inoltre è un libro scritto a tavolino, ma come dicevo è anche il frutto dell'esperienza sul campo. Quindi c'è questo taglio anche pratico che consente alle persone di apprezzare la città e di potersene impadronire in un modo semplice. Si comincia dal centro e poi, come vedremo, ci si perde in delle passeggiate che seguono le vie d'accesso alla città di epoca medievale. Inoltre va detto anche che Ambra è stata molto brava perché ha approfittato del lockdown per scrivere questo libro. In un momento in cui c'era una crisi del turismo inenarrabile, invece di abbattersi o di chiudersi magari in un isolamento poco produttivo, Ambra invece ha sfruttato questo momento per mettere nero su bianco quello che in tanti anni di esperienza aveva imparato. Quindi è una guida un po' diversa dalle altre. Ci stanno guide tematiche come per esempio guide archeologiche, guide gastronomiche, ci stanno guide eminentemente storico-artistiche, guide che seguono invece i itinerari cronologici, quindi che ne so, la Perugia barocca, la Perugia rinascimentale, la Perugia risorgimentale. Invece Ambra è riuscita a mettere insieme tutte queste cose facendo veramente uno strumento molto utile. e concordo pienamente sul fatto che questo lavoro serva non solo al turista, ma anzi, secondo me, soprattutto ai cittadini e agli abitanti di questa città, perché gli rivela degli aspetti veramente inediti a volte, insospettati e la rende ancora più affascinante. E volevo adesso dirvi un pochino cosa c'è in questo libro. Allora, il libro si apre con una introduzione storica agile ma completa della città, che va dalla preistoria fino all'epoca contemporanea, e poi segue un titolo esemplificativo, tutto ciò che non puoi perdere visitando per la prima volta la città. E questo praticamente già ci fa capire questo taglio pratico, cioè se tu c'hai poco tempo per venire a Perugia, queste sono le cose che non puoi assolutamente non vedere, quelle che ti fanno capire la città e quindi, diciamo, la parte proprio centrale, il cuore del centro storico. Poi un'altra caratteristica che mi ha colpito di questo lavoro è l'attenzione che ha Ambra per l'architettura anche ottocentesca, inizio novecento. Quindi, per esempio, Piazza Italia è descritta accuratamente, anche lì con delle curiosità molto particolari, perché nelle guide classiche solitamente le ultime acquisizioni della città dal punto di vista architettonico vengono un po' snobbate, certo, vicino a Palazzo dei Priori, capisco che Palazzo Cesaroni o Palazzo Calderini possano sfuggire a un primo impatto nella città, però in realtà Ambra non si cura anche di queste, con molta lungimiranza, secondo me. Poi, quello che mi è piaciuto anche è che Ambra lavora su più piani cronologici, permettendoci di dare uno sguardo alla città del passato in un modo non del tutto consueto. Vi ne leggo un pezzettino di pagina 45, quando descrive la piazza, il 4 novembre, la piazza della Fontana. Lo spazio che accolse la Fontana doveva apparire ben diverso rispetto a quello attuale. La cattedrale era decisamente più piccola, in pratica occupava lo spazio del transetto di quello attuale e si presentava affiancata dal primo palazzo pubblico perugino, quello del Podestà, non più esistente perché distrutto da un incendio nel XVI secolo e passata alla storia col nome di Palazzo Abrugiato. Sul luogo del Palazzo dei Priori si sviluppavano le disorganiche proprietà dei canonici, con la chiesa di San Severo e le case di privati. Perugia meritava ben altro, era una città prospera, con una popolazione in costante aumento e soprattutto deteneva una posizione di grande prestigio, non solo rispetto al suo vasto contado, ma anche a livello internazionale, come centro guelfo, di costante riferimento per il papato. Ecco, questo ve lo posso garantire, io che ho letto tante guide, visto il lavoro che faccio, non è una cosa che si trova, cioè cercare di ricostruire la città com'era agli occhi del visitatore e questo quindi crea proprio una specie di profondità temporale, cronologica, che rende questa guida estremamente interessante. Poi, Ambra si dedica anche ai musei, nonostante la necessità di una sintesi, fa un sunto delle opere principali della Galleria Nazionale, notando una cosa alla quale non avevo mai pensato, cioè che la Galleria Nazionale è non il frutto di una volontà di un committente, di un principe, di una persona molto importante, come capita per esempio nelle collezioni di Parma oppure di Modena, città dove ci sono stati dei grandi signori che poi hanno accumulato tesori. La Galleria Nazionale dell'Umbra è proprio invece una cosa corale, è il frutto di sovrapposizioni di una cultura nostra, che è quella che si è creata nel corso dei secoli e che dà l'idea di una popolazione, non delle scelte di un signore che in qualche modo seguiva i propri gusti. Inoltre, dopo questa prima parte che è una passeggiata che va, diciamo, da Piazza Italia, dalla Rocca Paolina fino alla Chiesa del Gesù, in Piazza Matteotti, dove Ambra tra l'altro descrive i tre oratori sovrapposti che si trovano sotto la Chiesa del Gesù, quindi ci stanno anche monumenti poco conosciuti anche ai perugini e che quindi meritano di essere scoperti. Ambra invece poi divide il centro storico, proprio il nocciolo, quello che uno non può non vedere, dà invece le passeggiate lungo i borghi e introduce questa seconda parte in un modo molto affascinante perché dice testualmente Perugia è una città da scoprire con lentezza, da assaporare, percorrendo le cinque vie reali che, abbandonato il cuore politico, sacrale ed economico, scendono oltre alla linea delle mure etrusche e poi medievali per prendere nome dalle porte aperte lungo il perimetro cittadino. Ciascun rione offre lo spunto di un itinerario che si avventura tra scorci inattesi, vicoli e realtà monumentali che testimoniano di una storia che riesce a sorprendere per la capacità di armonizzare le epoche con soluzioni assolutamente inattese. Si è un po' proprio così, questo piacere della passeggiata lenta e di scoprire aspetti inattesi della città, non solo per chi, lo ripeto, viene a Perugia per la prima volta, ma anche per i suoi abitanti. Quindi si comincia a camminare per i borghi con delle passeggiate molto piacevoli. Ogni borgo è introdotto da una sintesi, quindi chi non ha interesse a farselo tutto comunque ha un'idea di ciò che lo aspetta. E poi invece si va nel dettaglio andando praticamente a passeggio con Ambra. Ecco, anche io ho scoperto aspetti che non sapevo. Ne leggo per esempio uno che è relativo alla piazza Biordo Michelotti a Portasole. Abbandonata la piazzetta di Sansevero ci inoltriamo nel labirintico andamento delle vie mediovali che salgono sinuose, strette e buie fin sulla cima della Collina del Sole per convergere in un modo o nell'altro a piazza Biordo Michelotti. Nove nome che evoca le tumultuose speranze del popolo perugino. Era a questi un celebre condottiero capitano generale della Repubblica di Firenze e a Perugia per breve tempo a capo del governo dei Raspanti, la fazione popolare che nel 1393 riuscì a cacciare i beccherini, ovvero i nobili. Purtroppo questa breve esperienza che si concluse con l'uccisione a tradimento di Biordo il cui corpo venne gettato nel pozzo di Parazzo Veracchi al numero civico 1 sorti in corrispondenza del cuore del Palazzo della Fortezza dell'Abbate di Montemaggiore. Oppure poco dopo c'è la cenna al quartiere ebraico che spesso nelle guide turistiche nemmeno compare che si trova in fondo a via Ulisse Rocchi ed è ancora intuibile grazie ai toponimi infatti dice piazza della sinagoga quindi era un piccolissimo quartiere abitato più o meno fino al 1500 perché poi la già piccola comunità ebrea si ristrinse ulteriormente. Ecco, come vi dicevo da tutti questi particolari si vede il grande studio che c'è dietro e anche il fatto che Ambra non smette mai di unire sia la parte storico-artistica più importante quindi il Palazzo dei Priori, la Galleria Nazionale ma anche tantissime curiosità che veramente rendono particolarmente divertente l'andare per piccoli di Perugia. Anche sempre lì vicino ci sta Palazzo Bonaparte Valentini che è la Biblioteca Augusta e a questo proposito Ambra dice che tutte le domeniche si permetteva agli abitanti di sostare o visitare e visitare la preziosa collezione d'arte che comprendeva la famosa Madonna del libro di Raffaello che venne acquisita dall'Ermitage a seguito del disinteresse all'offerta di vendita dimostrato da Quintinosella all'epoca nel 1917 Ministro delle Finanze troppo teso al risanamento dei conti pubblici declinò dicendo che di Madonna in Italia ne abbiamo fin sopra i capelli e mostrando tra l'altro di non concepire come si potesse pagare una somma tanto alta per un'opera di 18 cm di diametro. Quindi ecco anche qui quando il palazzo da Maria Bonaparte Valentini divenne proprietà dei conestabili e della staffa ecco loro aprivano tutte le domeniche alla popolazione e alla loro ricca collezione d'arte. Poi continua l'itinerario verso Borgo Sant'Angelo e poi ci sta Via dei Priori che non viene percorsa come ci immagineremmo banalmente dall'alto verso il basso ma invece Ambra fa un sacco di digressioni ci porta da Via dei Priori fino al palazzo di Matilde Florenzi l'ex facoltà di magisterio adesso scienze della formazione raccontandoci anche qualche cosa di questa bellissima donna che aveva fatto perdere la testa a Ludwig di Baviera. Poi ci porta in un posto poco noto anche ai perugini cioè il magnifico Belvedere un po' trasandato va detto perché non ci passa quasi mai nessuno sopra le mure etrusche che si affaccia verso la chiesa di San Francesco al Prato un Belvedere da cui è possibile scorgere le colline oltre il rosone della chiesa scoperchiata. Poi arriviamo appunto a San Francesco al Prato dolcemente e poi c'è anche una velocissima guida del Museo dell'Accademia di Belle Arti di Perugia con tutti i suoi importantissimi calchi compresi alcuni fatti proprio da Ilcanova che li donò a queste importantissime istituzioni cittadine. Poi arriviamo a Porte Burnea e lì c'è l'arco della Mandorla e lì scopriamo che era una porta che portava bene se uno passava da quella porta le cose potevano avere un andamento positivo quindi i baglioni ogni volta che uscivano dalla città per fare una spedizione guerresca uscivano dall'arco della Mandorla mentre Porta Trasibena in Fonda via dei Periori era un posto pericoloso era bene non uscire quando c'era qualcosa di importante da fare da quella porta perché noi diremmo portava un po' Iella e ecco tutte piccole curiosità di cui io vi faccio accenno perché sono nel libro di Ambra poi questo itinerario di via dei Periori si conclude in una piazzetta che viene raggiunta attraverso una via che si chiama via Deliziosa sta sotto l'arco della Cupa e lì c'è quella che è considerata la casa del Perugino quindi se qualcuno vuole fare una passeggiata fino a lì vale la pena perché è veramente uno degli angoletti più nascosti e più graziosi della città poi è veramente meritevole anche il poderoso sforzo che ha fatto Ambra di sintetizzare in 15 pagine sia l'immenso complesso di San Domenico sia questo di San Pietro due tesori inestimabili di Perugia che hanno dentro di loro ancora dei capolavori veramente importantissimi e quindi avere la possibilità di leggerlo in breve tempo senza stare a consultare tutti i libri che invece Ambra ha dovuto studiare è veramente una cosa interessante e poi questa guida si conclude con due monumenti soltanto fuori delle mura fuori delle mura medievali e che sono l'Ipogio dei Volumni e la Chiesa di San Bevignate anche a questi Ambra dedica attenzione perché sono un completamento ineludibile del panorama storico-artistico della città poi ci sta una parte che è molto importante perché nella bussola del Viandante non può mancare avere dei riferimenti anche pratici quindi c'è un piccolo sunto delle specialità gastronomiche perugine in modo che chi viene in questa città per la prima volta se sceglie un ristorante sa già che cos'è la ceramicola oppure può capire meglio ordinando che cos'è la torta al testo quindi anche questo è interessante per chi arriva nella città per la prima volta e poi ci sta tutta una serie e l'elenco dei principali eventi e manifestazioni della città anche questo può aiutare molto nell'apprezzare la visita della città c'è perfino un QR code che rimanda al sito dell'Umbria Tourism dove ci sta tutto l'elenco delle numerose strutture ricettive dei ristoranti, delle osterie di dove uno si può fermare per prendersi una sosta inoltre c'è anche l'elenco di tutti i numeri utili dalla polizia al pronto soccorso veterinario e anche questo è una cosa veramente importante e faccio i complimenti all'editrice che ha dato questo taglio al libro e poi faccio i complimenti per le foto che sono veramente molto belle e mi piace ricordare gli autori sono Enrico Mezzasoma Auro Bernardi che è anche il nostro moderatore Fabrizio Galli e poi anche della stessa Ambra Antonelli che si è rivelata è stata una sorpresa per me sapevo che era una brava studiosa ma non sapevo che era anche un'ottima fotografa e ho finito sono quattro pagine ma l'ultima è praticamente vuota e niente io veramente ringrazio voi di essere venuti ringrazio tanto della vostra attenzione e ringrazio veramente Ambra non solo di avervi invitato ma anche di aver scritto questo libro perché è veramente un vademecum prezioso anche per me per portarmelo dietro non solo nel mio lavoro ma anche quando mi piace ho l'occasione di fare una bella passeggiata al centro di Perugia c'è sempre qualche cosa che uno scopre e che merita di essere scoperta e quindi ecco devo dire che l'ultima poi concludo l'ultima caratteristica che ha questo libro è di essere completo ma necessariamente non può dire tutto perché deve rimanere un libro maneggevole non di quelli che mentre va in giro ti spiombano dentro lo zaino dentro la borsa si può tenere agevolmente in tasca e che fa venire una gran voglia di conoscere di più cioè è un punto di partenza per un eventuale approfondimento che tutti noi possiamo fare grazie grazie con questa guida non c'è bisogno di mettere le lenti nel senso che presenta un carattere piuttosto grande ci sono tanti colori ogni sezione è divisa in colori con degli skyline proprio per fare un prodotto anche emozionante dal punto di vista visivo e quindi ecco diciamo al contenuto eccellente di Ambra abbiamo cercato di unire anche un'ottima forma con le meravigliose foto e con una forma appunto grafica che sia accettabile ultima cosa poi lascio la parola ad Ambra perché è ora che Ambra ha una cultura che io definisco oceanica e la ringrazio per aver fatto il grandissimo sforzo di contenere la sua immensa cultura la sua precisione la sua proprio veramente è una donna completa sotto ogni profilo grande sensibile colta tutto in poche pagine perché sono 200 pagine quindi grazie perché è stata veramente dura lo so quanto sforzo lei ha fatto e quindi la ringrazio perché si è tenuta al taglio che io volevo dare appunto alla guida è stata veramente veramente in gamba ultimissima cosa nella guida Ambra ha una cifra di scrittura che io definisco poetica quindi per la prima volta leggerete una guida che è anche una guida poetica perché questo è il suo modo di esprimersi perché questa è la sua anima una donna molto sensibile capace di cogliere quegli aspetti che possono sfuggire diciamo all'attenzione di chi cammina osservando senza però guardare senza veramente cogliere aspetti che lei con la sua descrizione ci fa cogliere quindi grazie Ambra per essere parte della casa editrice e anche per la tua amicizia grazie sì posso semplicemente confermare tutto quello che è stato detto fin adesso nel senso che appunto l'anno scorso venendo per la n volta a Perugia con una persona con mia moglie che invece non era mai venuta grazie ad Ambra eravamo tutti e due allo stesso piano nel senso io con tanta esperienza tra virgolette di viaggio e la persona che era con me senza esperienza di viaggio di questa città beh l'abbiamo scoperta tutte e due insieme per la prima volta adesso ci spieghi come io vi ringrazio perché mi fate veramente commuovere diciamo che essere guida permette nell'arco di appunto tanto tempo di confrontarsi con persone appunto tanto diverse quindi la guida è nata sul campo innanzitutto prima di essere scritta è stata vissuta giorno dopo giorno e quindi anche negli occhi di chi ha guardato Perugia attraverso il mio sguardo questo è un aspetto importante per cui mi piaceva prendere per mano il lettore come tante volte mi è capitato di prendere per mano il viaggiatore che appunto si trovava a scoprire Perugia una delle cose che sempre mi ha mi ha fatto male è di chi vede Perugia e dice ah perché Perugia Corso Vannucci e La Fontana perché questa è stata un'affermazione con cui all'inizio del mio lavoro io mi sono spesso confrontata e l'ho sempre ascoltata con grande dispiacere proprio perché Henry James diceva una cosa molto bella nel suo giornale di viaggio in Italia diceva Perugia va scoperta con lentezza ci vorrebbe almeno una settimana proprio perché Perugia è fatta di vicoli come è fatta di monumenti di grande bellezza di grande impatto soprattutto di impatto scenografico perché è una città che è nata dalle due colline come una prosecuzione naturale delle volte mi viene da pensare che sarebbe difficile pensare una strutturazione diversa da quella che Perugia ha avuto come se l'uomo fosse in grado di veramente continuare e completare l'opera della natura in maniera veramente armoniosa e questo voi lo avete già entrando a Perugia arrivando dalla zona del lago Perugia è un colpo al cuore proprio perché domina dall'alto le colline quindi una frase che ho scelto per iniziare è proprio quella di Aldo Capitini che dice Perugia sta sotto nient'altro che il cielo il che non vuol dire solo un fattore geografico fisico del fatto che oggettivamente non c'è nulla che incombe su Perugia ma anche proprio come capacità di dominare a 360 gradi la storia della regione e che si traduce oggi nel fatto che noi attraverso gli affacci panoramici di Perugia possiamo prevedere il nostro viaggio perché mi trovo a Piazza Italia io posso dire bene domani andrò ad Assisi poi andrò a Spello e poi c'è Montefalco che appare e le colline del lago i monti di Gubbio 360 gradi un'apertura meravigliosa ma al tempo stesso al di sotto una storia da scoprire perché Perugia ecco uno degli aggettivi che mi è venuto in mente ma che era un po' inutilizzabile è che Perugia è una città stratificata non era un'espressione da guida e per cui abbiamo scelto questa idea di perfetta ma perché perfetta non nel senso ideale del termine il senso comune perfetta viene proprio da un termine classico una cosa è perfetta quando è stata portata a conclusione è in tutte le sue parti e quindi in qualche modo io vado dal periodo etrusco fino alla storia attuale appunto dell'Ottocento che spesso viene snobbata invece è una storia meravigliosa perché l'Ottocento è stato fatto da persone che spesso avevano tutto mi piace sempre ricordare queste immagini perché mi colpi tantissimo proprio con Valentina noi facemmo una visita guidata sulla la villa ai Murelli dei Faina con la figura di Zeffirino e una cosa mi colpi tanto questa immagine dei conti Faina che uscendo da Orvieto a cavallo potevano arrivare a Perugia senza mai uscire dalle proprie terre bene Zeffirino Faina rischiò di perdere tutto perché inseguendo l'ideale nazionale fu esiliato e quindi mise a rischio quella che era una vita di grande agio quindi molto spesso noi vediamo nell'Ottocento un periodo retorico pesante invece è un momento in cui le persone certo guardavano anche all'interesse ma pensate alle immagini anche del gatto pardo quanti ideali le persone hanno vissuto poi quanti tradimenti anche quindi io ritengo l'Ottocento un periodo da scoprire ho avuto la fortuna come guida di essere spesso coinvolta anche sempre con Valentina che mi ha sempre stupito perché ha una cultura enciclopedica è una memoria autistica stavo per dirlo ho detto vabbè speriamo che lo dica lei perché diciamo io ho una buona memoria normalmente nel senso che chi ha studiato lettere antiche comunque ha una buona memoria per necessità di cose ma lei è qualcosa che rasenta l'incredibile quindi l'ho sempre guardata con una grande grande ammirazione quindi sono onorata del fatto che sia lei ad essere oggi presente qui veramente perché abbiamo condiviso proprio molto questa formazione che voi ritroverete ecco chi avrà il piacere di leggere questa guida ritroverà questo questo taglio che va sia dall'archeologia ma anche dalla volontà di esprimere una visione di insieme ecco quindi la città stratificata quella che io con i bambini dico la torta millefoglie no? perché quando ci si trova fuori della rocca paolina e si guarda a porta marzia incastonata nelle mura della fortezza del cinquecento e sopra il palazzo della prefettura si ha proprio l'idea di vedere la storia fa stellarsi in un'unica immagine quindi ho avuto il piacere di accompagnare tanti visitatori e di vedere come piano piano questa visione di Perugia sia entrata in chi appunto ha guardato la città con occhi un pochino più attenti quindi è vero ho avuto un po' di difficoltà nel sintetizzare perché come state già un po' capendo non ho il dono della sintesi cioè diciamo ne ho altri ma non quello della sintesi quindi diciamo che la guida è stata per me una grande sfida perché Perugia a differenza di tante altre città ha una storia veramente lunga appassionante dove tutto ha una sua importanza quindi cosa scegliere cosa sopprimere questo non è stato non è stato facile e devo dire che è stata una sorpresa anche per me quando ho consegnato il lavoro di dire ce l'abbiamo fatta siamo rientrati nelle pagine giuste proprio perché l'idea è anche offrire uno strumento maneggevole che uno può tenere appunto in borsa e che uno può consultare anche proprio questa idea dei colori è molto efficace perché appunto se io voglio visionare l'itinerario appunto che non puoi perdere arrivando a Perugia io so che devo guardare il colore blu se io devo invece vedere i rioni e queste che sono delle passeggiate che io ho sperimentato ancora meglio durante il lockdown perché nell'idea di dover comunque immaginate voi una guida turistica abituata a vivere all'aria aperta a camminare a incontrare persone cosa può essere stato e quindi l'idea di aver fatto proprio dei percorsi di trekking tra campagna e città incredibile Perugia è una città che è anche città di campagna perché voi non perdete mai il contatto con il verde con i giardini con i parchi con le colline con gli olivi e quindi queste passeggiate che mi permettevano di arrivare da San Pietro a Sant'Angelo Portapesa erano essenziali perché mi hanno dato questa possibilità di offrire Perugia in una mano per me la guida è proprio offrire Perugia in una mano nel senso di permettere di coglierla in una visione d'insieme e poi magari certo approfondirla perché il formato è piccolino e Perugia è tanto però mi piace l'idea che poi se voi leggerete avete magari l'indicazione del numero civico oppure guardate a sinistra guardate a destra perché è utile avere un'idea di dove guardare perché quando si visita una città spesso si passa in un luogo senza sapere dove andare a cercare le cose per cui c'è questa famosa storia dei pesciolini a Perugia perché ci sono due punti una in via Oberden una vicino proprio alla via del paradiso queste scalette mi piace l'idea che solo salendo le scalette si capisce perché è la via del paradiso perché giustamente è molto in salita e lì ci sono due pesciolini ad indicare una la direzione del lago da dove i pesci arrivano l'altra la pesceria che è in via Oberden in via Oberden se voi guardate dove c'è l'ottico c'è un pesciolino con lo stemma della confraternita per cui tante piccole curiosità che ho cercato di mettere e adesso io taccio perché potrei continuare per ore ma vi risparmio e spero che insomma abbiate il piacere di leggere appunto questo testo e soprattutto di utilizzarlo come strumento per scoprire e conoscere bene una città che io amo tantissimo nonostante poi posso dirlo io sono ternana e lo dico alla fine no posso dirlo no perché secondo me è un valore raggiunto nel senso che non c'è niente di meglio che un nemico accolto in casa no mi viene in mente il barbaro di Borges che arriva a Ravenna e scopre una città talmente bella che diventa il più convinto assertore di quella civiltà quindi forse dall'esterno ci si accorge di aspetti di grande bellezza che chi ci vive magari non ha proprio la spesso la completezza dell'insieme quindi grazie per essere venuti è un piacere vedervi qui e veramente buona lettura grazie grazie siamo anche stati bravi nei tempi c'è forse qualche minuto se ci sono delle domande posso solo confermare come fotografo che mi è bastato mettere l'obiettivo dove Ambra mi diceva guarda ed era una foto veramente notevole da conservare da usare anche per questo magnifico libro è bellissimo è bellissimo non so se mi senti funziona è bellissimo la finestra con la maschera che fa la linguaccia al prefetto di Perugia c'è questa storia del Cesaroni e effettivamente Auro ha fatto una foto che nemmeno se gliel'avessi chiesta guarda vai a fotografare quella cosa invece gli è venuto perfettamente spontaneo perché Auro ha subito comunque le mie visite guidate è stata una vittima dei miei percorsi quindi le fotografie spesso sono molto aderenti al testo proprio perché fatte durante una visita guidata allora i giornalisti di viaggio sono vittime tra virgolette delle guide ma avercene di guide così ragazzi